Quando si lascia la propria auto al meccanico, si spera di riaverla in uno stato migliore di prima. Purtroppo, per il proprietario dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che vedete nelle foto, non è andata così. Il proprietario della Giulia ha raccontato, su Reddit, la sfortunata vicenda della sua auto, che dopo averla lasciata per delle riparazioni minori, è stata coinvolta in un incidente dal meccanico durante una prova su strada. Ha mostrato alcune foto della sua vettura, che ha urtato altri due veicoli, con la scritta «Elle ho portata per delle piccole riparazioni, e sono tornato con questo». La scena è ancora più drammatica, perché l'auto coinvolta è un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Forse i 510 cavalli vapore del suo motore V6B Turbo hanno influito sull'incidente spettacolare, con la Giulia, che ha schiacciato una Porsche 911 e si è sollevata in aria, appoggiando il frontale sul lato di una Mercedes. Glee, il proprietario della Giulia, ha spiegato. Mi hanno detto che stavano facendo una prova su strada dopo le riparazioni, e un minivan gli si è messo davanti. Così chi guidava, per evitare il minivan, ha sterzato e ha urtato il bordo della strada, sbattendo contro un albero e sollevandosi in aria. Grazie a tutti.